Per noi è arrivato il momento di vedere un servizio che abbiamo realizzato qualche mese fa in compagnia dell'associazione Il Cerca Padrone. Quindi conosciamo insieme questi volontari che aiutano tantissimi cagnolini sfortunati. Grazie per la visione! Amici di Cane, Gatti e Compagnia, come tutti sapete il nostro programma è aperto a tutte le associazioni che aiutano gli animali. Oggi vogliamo farvi conoscere il Cerca Padrone. Per questo motivo abbiamo una delle volontarie Elena Zanchi che è nostra compagnia proprio per presentarci questa associazione che ruota in diversi territori della provincia della regione Lombardia, giusto? Esattamente, la nostra associazione Il Cerca Padrone Ollus è nata nel 2007 e ha sede a Milano e poi come giustamente diceva Barbara ha due delegazioni, una a Pavia nata nel 2009 e una a Bergamo nata invece nel 2011 e si occupa di tutela di animali d'affezione, quindi soprattutto di cani abbandonati e le funzioni principali che svolge l'associazione sono quelle di monitoraggio del randagismo e di tutelare le condizioni di vita dei cani, delle strutture in cui operiamo. Quindi operiamo in diversi canini privati convenzionati e in alcuni rifugi e l'associazione si preoccupa delle condizioni di vita di questi cani quindi si occupa del censimento, della ricollocazione dei cani e di promuoverne e facilitarne, cercare di facilitarne le adozioni. Abbiamo anche una serie di cani nostri dell'associazione che vengono mantenuti a spese dell'associazione all'interno di una struttura al confine tra il bergamasco e il milanese. La vostra associazione ovviamente è formata da volontari, quindi persone che impiegano il tempo libero per cercare di fare qualche coccola, dare sostentamento a questi amici più sfortunati. Sì esatto, la nostra associazione è basata esclusivamente sul volontariato e siamo tutti volontari che ci occupiamo sia di volontariato attivo che significa venire proprio in canile, prendersi cura dei cani, farli sgambare, assicurarsi del loro benessere fisico e psichico portarli eventualmente dal veterinario se c'è necessità, controllare che i compagni con cui sono all'interno del canile siano in compagni appropriati e controllare insomma che il benessere che si può assicurare di un cane all'interno del canile sia il massimo possibile. Questa è la nostra prima mansione. I vostri amici a quattro zampe come sono giunti da voi? Sono giunti attualmente quelli che abbiamo nella struttura vengono un po' da tutta Italia, dalla Puglia fino ad arrivare da Milano e dalle situazioni più disparate, nel senso che noi ci occupiamo di quei cani che sono nelle condizioni più difficoltose quindi in rischi tipo di randagismo, comunque di maltrattamento oppure in condizioni che necessitano di recupero comportamentale quindi spesso nelle strutture dove si trovano soprattutto sul Italia non avrebbero il necessario sostentamento e quindi ci sentiamo di prenderci cura di questi cani, li portiamo qui da noi, abbiamo la nostra presidente educatrice cinofila e quindi sa il modo adeguato in cui seguirli e in cui recuperarli e abbiamo recuperato diversi cani finora. Immagino che siano anche parecchi quelli che trovano famiglia, grazie a voi. Sì, 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 assolutamente. Sul nostro sito ilcircapadroneollus.it si possono vedere tutti i cani che sono stati adottati tutta la loro storia e le foto con le famiglie attuali dove si vede quanto stanno bene. Ovviamente immagino che voi effettuete dei controlli pre-affido e post-affido, sarete molto selezionatori in questo senso. Sì, esattamente. I nostri cani vengono affidati, sterilizzati, microcipati e con tutte le necessarie condizioni cliniche che devono essere portate avanti poi dai padroni, quindi noi richiediamo la firma del modulo di adozione e la possibilità di fare controlli pre- e post-affido. I cani vengono affidati soprattutto nel Lombardo e in rari casi anche in altre regioni, insomma, le abbiamo avuti in Trentino o in Liguria, per esempio. Allora, adesso conosciamo questi amici che speriamo, grazie anche alla nostra trasmissione, riescono a trovare famiglia. Esatto, sì, speriamo proprio che sia così. Allora, Pitt? Allora, Pitt è un cane adulto di taglia grossa, è un incrocio molossoide, ha avuto una storia purtroppo non troppo felice, nel senso che si trovava in canile e dal momento in cui è uscito non è stato adottato in una famiglia amorevole come si spererebbe, ma è stato adottato da un proprietario che lo teneva in realtà a catena sotto di un albero, inverno, estate, accanto ad altri alberi, aveva poche possibilità di sgambamento e proprio per questo motivo Pitt si è ammalato, è diventato molto magro e in realtà questa è stata poi la sua salvezza, nel senso che è stato l'unico motivo che ha spinto il padrone sotto nostra pressione a cederci il cane. E quindi da quando Pitt è arrivato qui si è decisamente ripreso, adesso sta bene, ha messo su peso, è un cane dolcissimo, nonostante il muso ha molti spaventi e la stazza anche perché c'è da dire che i cani grossi in canile neri sono quelli che fanno più fatica a trovare adozione, però Pitt è veramente un cane dolcissimo, è ben socializzato sia con le persone che con gli altri cani, non ha problemi con i gatti e è qui che come tutti i nostri amici a quattro zampe aspetta di poter trovare una famiglia che lo voglia veramente rendere parte della famiglia, non richiede grandissimi spazi, basta che abbia la presenza degli umani, insomma, che li facciano sentire il loro calore, questo è tutto quello che chiede Pitt. Quindi anche se qualcuno dovesse sentire delle situazioni in cui ci sono dei cani che non vengono trattati proprio al meglio può rivolgersi a voi? Assolutamente, sì, noi ci occupiamo, agiamo anche su segnalazioni di privati o di altre associazioni, quindi spesso i cani che noi prendiamo da situazioni difficili ci arrivano proprio per segnalazioni di associazioni con cui collaboriamo, quindi verifichiamo che la situazione sia effettivamente così come ci viene detto e poi interveniamo, esattamente, sì. Grazie a tutti. Elena Inviecce, facci conoscere Otello. Allora, Otello è un cane, anche lui è adulto, ha circa una decina di anni, è un cane di taglia grande e proviene dalla provincia di Milano in cui è entrato piccolissimo in canile. Otello non ha avuto la possibilità di avere il necessario periodo di socializzazione sia con gli umani che con i cani che è necessario ad i cani per il loro corretto sviluppo durante l'età adulta, durante tutta la vita. E quindi Otello si presentava come un cane aggressivo nei confronti degli altri cani, non poteva sopportare la loro presenza se troppo vicini e spesso verso gli umani non aveva un contatto se non quello che fosse prenderlo e portarlo fuori e dargli da mangiare. Otello, quando è arrivato nella nostra struttura, ha seguito un percorso di riabilitazione comportamentale, ossia è stato adeguatamente seguito perché potesse migliorare il suo rapporto con gli altri cani. Ora riesce ad andare in passeggiato con altri cani, vive con una cagnolina femmina che ormai sono le sue compagne privilegiate e ha stabilito un grande rapporto di affezione con gli umani, con noi volontari, con le persone che conosce. Quindi è un cane che sa dare grandi soddisfazioni. E quale sarebbe la famiglia adatta per Otello? Per Otello sicuramente sarebbe una famiglia che lo coinvolga nella vita familiare, che non lo lasci troppo solo, che abbia il tempo di portarlo fuori e di fargli esplorare. Perché ci teniamo a sottolineare che tutti i cani hanno bisogno di essere portati fuori da casa, anche se uno ha un grande giardino, è fondamentale che il cane possa esplorare e quindi vedere il mondo attorno a lui. Per cui una famiglia di questo tipo sarebbe l'ideale per Otello. Per cui una famiglia di questo tipo sarebbe una famiglia che non lo lasciano fare. Renato Lovati, sarà lei a presentarci Jenny? La Jenny viene da una famiglia che dopo qualche anno non l'ha mai più voluta, è venuta da noi in canile, è già stata in due canile, questo è il secondo canile che è qua, perché è un cane bravissimo, dolce, equilibrato, non so perché l'hanno lasciata a noi, perché i problemi non ne ha questo cane. Com'è gestire Jenny? E' bravissima, è un cane dolcissimo, non va d'accordo con altri cani, dipende di che carattere, ma comunque con i maschi va d'accordissimo. E la famiglia ideale per lei quale sarebbe? Una famiglia normale, una famiglia di un uomo e una donna e bambini. Va d'accordo con i bimbi? Sì, va d'accordissimo, non c'è nessun problema. Tito da dove arriva? Allora, Tito arriva dalla Romania e viveva in una casa con la cuccia, in una casa disabitata, che aveva soltanto un proprietario del terreno e che a un certo punto ha deciso di sbarazzarsi di questi cani e non dovevano più vivere lì. Così una signora che dava loro da mangiare ha deciso di contattare un'associazione che opera sul posto, che è Save the Dogs, con cui noi collaboriamo. E a sua volta questa associazione ha chiesto aiuto a noi per portare via queste due cagnoline. Così sono arrivate in Italia. Naturalmente la cucciola ha trovato dopo pochissimo tempo adozione. Mentre per Tito la cosa è stata un po' più difficile perché si mostrava molto diffidente verso gli esseri umani e non troppo socializzata verso gli altri cani. Quindi anche con lei è iniziato un recupero del comportamento. Con le persone che conosce lega molto facilmente e crea un rapporto di assoluta empatia. Ed è un cane molto dolce. Con le persone che invece non conosce Tita è il tipico cane che ha bisogno del suo spazio. Quindi bisogna sapersi rapportare con lei nel modo adeguato, ha bisogno dei suoi tempi, deve essere lei a venire dalla persona e non viceversa fondamentalmente. Con gli altri cani Tita vive attualmente con un piccolo cagnolino maschio con cui va d'accordissimo, è una sorta di mamma per lui. Mentre con gli altri cani la situazione è un po' più difficoltosa proprio perché anche lei non ha avuto questo periodo di socializzazione essendo una cagnolina fondamentalmente randagia di origine. Mentre con gli altri cani Queste Elena sono proprio le adozioni del cuore, Dotti e Mimma. Dotti la cagnolina marrone e nera e Mimma invece questa tutta nera e bianca. Esatto sì, sono le nostre adozioni del cuore nel senso che Dotti la piccola disperata che potete vedere qui è una cucciolotta di 11 mesi adesso. E arriva da Cerra vicino a Napoli e si trovava lì con tutta la sua cucciolata, ma Dotti era una cagnolina speciale perché era una cagnolina focomelica e aveva questa zampina che non le permetteva di deambulare nel modo corretto. E quindi le volontarie del posto ci hanno chiesto aiuto perché altrimenti le sarebbe rimasta per tutta la vita chiusa in quel box e non avrebbe avuto opportunità di una vita migliore diciamo. Quindi è arrivata da noi, ha fatto una visita ortopedica specialistica e il veterinario ha valutato che la cosa migliore fosse amputare questa zampina perché altrimenti le avrebbe creato problemi con la crescita, avrebbe creato problemi alla postura e quindi è stata amputata questa zampina e è stata la cosa migliore perché come potete vedere adesso Dotti corre come una pazza ed ambula benissimo nonostante abbia attresso le zampine. È un pochino timida con le persone ma è una gran giocherellona, bisogna solo sapersela conquistare. Invece Mimma? Invece la nostra Mimma ha vissuto per tantissimi anni in un canile dove l'unica cosa che poteva vedere non era erba ma era cemento e questo le ha creato problemi alla zampina posteriore sinistra che è appunto un moncherino ma lei la considera in realtà come una zampa normale quindi tenta di appoggiarla e questo le ha creato problemi alla postura per cui Mimma non deambula correttamente, fa piccoli passi ma si stanca molto facilmente ed è una cagnolona dolcissima che cerca come potete vedere il contatto con l'uomo ed è tutto quello che chiede, non chiede grandi passeggiate ma solo di qualcuno che la coccoli e le stia vicino e le dia amore. Grazie a tutti